Ecco adesso, l'associo spinge il parecchio. Ora se non dà c'è fatto niente. Ma? Fermati. Quando gli fai di questi esercizi delle volte, quindi uno, due, poi ti fermi e ringrazio. Cioè, te l'hai detto che lo faccio più volentieri, che non c'è l'attaccia. Però è un creponino, non è un... Così lei è sempre più propensa a... Io... Mi ha dato la scossa con l'orecchio. No, perché si sente tutto l'orecchio. E non so perché sono così elettrico. Ah, guarda. E' il vento. E io so che l'altra settimana ho fatto una... Guarda, mi andavo vicino. Che un altro cavallo lo recepisce anche meno, poi ci dà meno potenza. Lei potrebbe... growingal bambini, devo andare.